Conferenza stampa a Palazzo di Città per la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Un'occasione per fare il punto della situazione amministrativa e per presentare i risultati legati al bilancio 2019 e dal rendiconto di gestione 2018. L'equilibrio di bilancio vuol dire pone dei limiti ben precisi e in dieci anni non posso fare mutui, quindi non ho la possibilità di programmare come vorrei. Non posso fare assunzioni, noi abbiamo una serie di persone, circa 80 persone che sono andate in pensione negli ultimi tre anni, quindi abbiamo fatto richiesta nel nuovo bilancio al Ministero la possibilità di assumere e dobbiamo ridurre le spese. Quindi noi subiamo il riequilibrio e il riequilibrio lo paga la città di Battipaglia. Quindi chi ha determinato le amministrazioni precedenti che hanno determinato questa situazione di predissesto, voglio dire sono coloro che mettono le mani in tasca ai cittadini. Perché poi c'è gente che fa politica becera, cioè nel senso che prende in giro i cittadini senza dati alla mano. Questa amministrazione ha il compito di mettere mano ai conti, dice non fa niente, prima usciamo dal presissesto dal riequilibrio, prima si parte dall'anno zero. Cioè questa città ha bisogno di rinascere e se non lo puoi fare, se non metti mano ai conti. Noi stiamo pagando condensiosi, veramente in mani, molti debiti fuori bilancio, tanto per ricordarne uno, ambiter di circa un milione di euro, non erano compresi nel riequilibrio eppure questa amministrazione li sta pagando. Quindi non solo stiamo diminuendo di volta in volta il disavanzo, quindi nel 2016 erano 22 milioni di euro, poi siamo scesi a 17, a 9, quest'anno chiuderemo con 4 milioni e 7 di disavanzo. Quest'anno invece cercheremo anche di spendere qualche cosettina, nel senso che abbiamo chiesto al Ministero l'autorizzazione per l'assunzione di figure necessarie. Abbiamo visto l'avvocato che è andato in pensione, ma di altre figure che ci servono. Perché? Perché metteremo mano ad una rivoluzione di quella che è la macchina amministrativa proprio per rendere le procedure più veloci. Insomma in questi due anni dobbiamo incominciare a mettere mano, a completare una sete editor che avevamo iniziato.